La guerra, la crisi energetica, le conseguenze della pandemia e le difficoltà dell'economia, una situazione drammatica che fa crescere la povertà. Sono sempre di più le famiglie che non riescono a far quadrare i bilanci, sono sempre di più i nuovi poveri costretti a rivolgersi ad un sistema di welfare che possa supportarli. Da Benevento l'arcivescovo Felicia Crocca fa appello alla politica perché affronti prima di tutto i problemi dei più fragili. Io credo che in questo momento sia importante avere a cuore soprattutto la sorte dei più deboli, come sempre anche qui, di tante persone che non ce la fanno neppure ad arrivare alla fine del mese. Ecco, credo che ora sia questa la priorità. E la Caritas italiana ha indicato per il 2021 in oltre 5 milioni e mezzo, con quasi un milione e mezzo di bambini, il numero degli italiani in povertà. Prosegue senza sosta l'aiuto che la Caritas diocesana di Benevento presta a chi si trova senza mezzi, un sistema attivo che rischia di andare in affanno per l'aumento stesso delle richieste. Credo che siamo poi una goccia nel mare rispetto a quelli che sono i bisogni reali, però lo nostro va a essere soprattutto un segno per dire un po' ad ognuno qual è la direzione da prendere.